Ciao a tutti amici Nexus Lab, sono Alessandro e questo primo piano del nostro Nexus 5 è dedicato non tanto a lui ma quanto alla nostra videoprova di Angry Birds Go il nuovo titolo di Rovio appena uscito su Android proprio oggi l'abbiamo provato per un po' di tempo, abbiamo appurato quali sono le criticità del titolo e quali sono i punti a favore adesso lo andremo a provare insieme andiamo ad aprirlo ce l'avevamo già aperto abbasso solo leggermente il volume ok questo è il menu principale di Angry Birds Go uscito appunto oggi per tutti i sistemi operativi mobile più conosciuti tranne Blackberry è un gioco, uno spin off della serie Angry Birds trasportato sui kart quindi un kart game mancava in effetti un esponente del genere forte su Android quindi Rovio ha sicuramente fatto benissimo a puntare su tale genere allora abbiamo diverse due o tre impostazioni da regolare l'audio che può essere messo in mutuo o attivo i comandi che possono essere impostati touch sinistra e destra oppure con sensibili all'inclinazione del telefono i riconoscimenti e i codici il menu si suddivide in questi quattro elementi uno è la Toons TV dove poter vedere appunto i mini cartoni di Angry Birds poi il tasto play dove troviamo il cuore del gioco il tasto per invece collegarci con il nostro profilo Rovio e i telepods che praticamente sono questi mini giochini mini pupazzetti che possono essere trasportati all'interno del gioco noi potremmo acquistare tramite Hasbro questi tramite la distribuzione e la realizzazione di Hasbro questi giochi e poter avere il nostro avatar all'interno appunto di Angry Birds Go quindi un'operazione prettamente commerciale troviamo quattro mondi distinti più questo Jenga che si può sbloccare soltanto con l'acquisto della modalità Jenga o avendo il codice relativo Jenga che possiamo trovare adesso dobbiamo ben capire dove andiamo invece nel cuore del gioco quello che più ci interessa questa è la schermata lab più comune del gioco qua potremmo scegliere il kart per adesso abbiamo questi tipi di kart che possono essere acquistati per poche monete come potete vedere i kart invece che non sono acquistabili con le monete sono acquistabili con soldi veri e vi diciamo subito che qua ci troviamo di fronte alla criticità più grande perchè pagare per un kart appena appena avviato il gioco cioè avremmo giocato un'oretta e mezza massimo e pagarlo 45 euro ci sembra sinceramente un piccolo furto ovviamente qua è l'utente che basta avere il controllo sulla propria carta di credito sulle proprie intenzioni e basta non acquistarlo se comunque ci limitiamo ai nostri kart le nostre baracche in confronto agli altri kart potremmo acquistarle per poche monete e poi potenziarli con appunto tali monete abbiamo qua i nostri quattro potenziamenti base più la cilindrata che andrà aumentando questi vari parametri qua in alto, non so se riuscite a vedere abbiamo il numero di monete e il numero di gemme gemme che sono importantissime sono un'altra criticità del titolo criticità forse ancora più importante del prezzo dei singoli kart proviamo a potenziare adesso la velocità massima per adesso potenziabile solo attraverso le monete 180 ce li abbiamo passiamo da quindi 86cc a 96cc proviamo a aumentare la robustezza cambia anche leggermente l'estetica aumentiamola ancora abbiamo un po' di soldi siamo arrivati al massimo della nostra robustezza siamo arrivati a 123cc con dei valori abbastanza buoni questo nel primo mondo sono le modalità disponibili abbiamo la gara classica il time trial contro il tempo la raccolta della frutta dobbiamo fare il percorso un percorso solito che ci troviamo a fare in questo livello cercando di prendere più frutta possibile più che di prenderla e di schiacciarla duello duello che è una delle poche modalità dove troviamo un livello di difficoltà e caccia il campione invece è una delle forse l'unica modalità che ci permette di guadagnare anche delle gemme andiamo subito a vedere cosa servono queste gemme facciamo clic su go questa è la griglia di partenza prende appunto spunto dal dalla classica fionda che troviamo per partire tiriamo indietro aspettiamo il go non esiste l'acceleratore esiste soltanto sinistra destra e come potete vedere abbiamo noi un potenziamento su questo kart specifico che è il turbo potenziamento che può essere usato solo una volta gratuitamente ma questo non vuol dire che non può più essere usato infatti lo usiamo una volta e per utilizzarlo altre volte dovremo spendere gemme gemme che si guadagnano appunto battendo i vari boss anche se se ne potranno prendere veramente poche in proporzione o acquistandole a pacchetti a pagamento come ormai Rovio ci ha abituato pacchetti a pagamento che sinceramente non sappiamo ancora dire se sono generosi o meno possiamo andare lì a vedere qua in alto a sinistra abbiamo il menu abbiamo con le gemme possiamo acquistare monete quindi per adesso qua è tutto acquisto in app ma con soldi non reali ma con gemme però le gemme di base come potete vedere sono abbastanza care abbiamo più o meno 500 gemme 4,50 euro di sicuro 4,50 euro per 500 gemme che possono finire mezza giornata volendo giocare tanto col gioco andremo a spendere tra carte gemme eccetera magari 100 euro in due giorni questa è appunto una delle criticità andiamo con gara contro il tempo noi abbiamo collegato il nostro account facebook come potete vedere abbiamo i nostri amici qua a destra amici purtroppo che giocano in questo momento collegati a facebook non ne abbiamo possiamo invitarli facciamo una gara contro il tempo per parlare del gameplay non è tutto sbilanciato sul free to play per fortuna si riesce ancora a giocare si riesce ancora in qualche modo a giocare visto che il gameplay comunque è buono e solido si riesce a guidare in maniera fluida io preferisco assolutamente lo stile di guida con i controlli touch sono molto più precisi rispetto all'inclinazione come potete vedere i percorsi hanno diverse ramificazioni e in diversi mondi abbiamo diversi percorsi da sbloccare adesso andiamo a usare il turbo quindi come gameplay non è niente male è molto semplice manca l'accelerata manca il freno per adesso mancano i potenziamenti al di fuori tipo chi gioca spesso a mario kart magari è abituato a trovare i punti interrogativi che possono fornirci darci qualcosa in più vi faccio ancora vedere il duello caccia al campione possono darci qualcosa in più qua per adesso non ne abbiamo trovati adesso il boss dobbiamo batterlo tre volte la prima volta non c'è stato nessun problema partiti leggermente in ritardo è importantissimo anche il gioco delle scie le scie contano molto le scie sono fondamentali per portare una vittoria soprattutto se partite in seconda posizione per il resto il titolo è godibile per adesso non abbiamo incontrato grandi ostacoli ma siamo convinti che poi possa diventare anche un pay to win non esiste il multiplayer competitivo per ora mancanza purtroppo abbastanza marcata perché in un gioco di questo genere si sposa benissimo probabilmente potrebbe anche essere introdotto in futuro due stelle come potete vedere alla fine troviamo la vittoria delle gemme 220 monete e la votazione raddoppia monete perenne proviamo a prenderlo come potete vedere un altro acquisto in app veramente fastidiosissimo il fatto di dover pagare per avere il doppio delle monete per sempre pagare non neanche poco 6 euro e 30 voglio dire qua Rovio appunto a spennarci in una maniera assurda noi avremmo pagato volentieri volentierissimo anzi 6 euro per questo gioco ma qua Rovio vuole guadagnarci molto 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 di più 6 euro non è quello che ci vuole guadagnare lui vuole guadagnare 20-30 euro sul singolo utente e non è detto che per la legge dei grandi numeri c'è la faccia visto che quasi tutti gli utenti android hanno scaricato il titolo essendo questo free to play almeno per provarlo quindi Rovio non ci piace la sua mossa commerciale per niente un free to play invadente molto molto invadente molto molto caro per un titolo peccato perché è sviluppato bene quindi ci dispiace è rimandata la prossima volta sperando che torni un po' sui suoi passi un saluto da Alessandro per Nexus Love per un titolo di QTSS per un titolo di QTSS per un titolo di QTSS per un titolo di QTSS